Un bazar della droga in pieno centro storico a Ragusa in via Martorana, pochi passi da piazza San Giovanni, è stato scoperto dalla squadra mobile di Ragusa. La droga veniva acquistata da giovanissimi che fuori dalla casa aspettavano in fila, mentre all'interno altri contrattavano e due ragazzine di 14 anni avevano già acquistato lo stupefacente. Il tutto avveniva via WhatsApp, le parole in codice erano NEAI SI PASSA. I ragazzini potevano chiedere anche la consegna a domicilio, addirittura fumare lì in casa. I controlli degli agenti in borghese sono scattati subito dopo le segnalazioni di genitori che, insospettiti dai comportamenti dei figli e dalle cartine trovate negli zaini di scuola, si sono rivolte alla polizia. Sabato pomeriggio, infatti, agenti in borghese hanno iniziato gli appostamenti nei pressi dell'immobile, quando, approfittando che alcuni ragazzini stavano bussando alla porta, hanno fatto irruzione all'interno. I piccoli clienti, alla vista degli agenti, hanno iniziato a dileguarsi ad occultare la droga che si trovava sul tavolo, ma la polizia li ha bloccati. La droga si trovava nascosta ovunque, nei cassetti, sotto il letto, in cucina, negli armadi, ma la polizia è riuscita a trovarla e a sequestrare complessivamente 200 grammi di acici e marijuana, suddivise in dosi e pronte per la vendita. E ancora un taglierino per il confezionamento, quattro bilancini di precisione, una piccola sciabola ed anche un cubetto di mannitolo, una sostanza utilizzata per il taglio di eroina e cocaina. La polizia ha anche individuato tre giovani acquirenti che ammettevano di essersi recati lì per comprare la droga. Infatti, uno dei tre aveva nascosto l'ascisce negli slip, mentre due ragazzine di 14 anni l'avevano messa nel reggiseno. La complessa operazione ha portato all'arresto di un vittoriese di 26 anni, ma residente a Ragusa, che adesso si trova inchiuso in carcere. Ed è ancora la denuncia di un ventenne e di un ventunenne. Tutti e tre devono rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti, con l'aggravante di aver venduto droga a due ragazzine di appena 14 anni. Inoltre, il rinvenimento di mannitolo ha portato gli agenti a proseguire le indagini per capire se il vittoriese e i suoi complici fossero coinvolti anche in altre attività di spaccio.